allora raga questo video lo faccio per mire e per i fan di mire di quelli che lo seguono sono di nuovo in germania sono il mio paese ok ma potete notare questo è traunstein in bayern ok come potete notare io la vespa l'ho pulita perché prima l'avete vista che la vespa era sporca la vespa luccica come potete vedere ho pulito tutto c'è dei prodotti professionali ed è pulita anche qua anche gli ammortizzatori come potete notare sono come nuovi ma sono nuovi luccica luccica fischia allora fan di mire lui mi ha sistemato la vespa guardate mire è un grande accendo il quadro eccolo qua è uno allora luce di posizione funziona adesso metto la luce lunga ecco che funziona e la stacco vedete funziona grande miro lo stop di dietro e anche a led e funziona ok poi se io la legge in germania sulla targa ci deve essere la luce e c'è ok e c'è la luce anche sotto e raga che vi posso dire la vespa è a posto luccica luccica e fischia un saluto a tutti i fan di mire ok ciao a tutti e gli dico una cosa solamente dire la Нам di plena c'è anche per te anche per te pe anche per te anche per te